Benvenuti a Sant'Agata dei Goti. Siamo a Sant'Agata dei Goti, la perla del sangue così come definita un po' da tutti. È un borgo bellissimo, è anche bandiera arancione. La città di Sant'Agata quindi è aperta ad accogliere tutti i turisti e a godere di tutte le sue bellezze artistiche, architettoniche, culturali e religiose. Quindi vi aspettiamo tutti. Quando sarete a Sant'Agata sarete accolti non come turisti ma come ospiti della nostra città. Ciao sono Giovanna, benvenuti a Sant'Agata dei Goti nel nostro ristorante Anticosteria di Paoluccio. Siamo qui dal 1927, noi siamo lieti di avervi come nostri ospiti a voi di Campania Feria. Serviamo piatti prettamente tipici della tradizione sant'agatese. Gli antipasti trovate una delle eccellenze che è il pane cotto. Come primi diciamo il nostro cavallo di battaglia è sicuramente il raviolo alla melanurca. Sono Paola Mustilli dell'azienda agricola Mustilli. Noi produciamo vino nel centro storico di Sant'Agata dove è possibile venire e degustare i nostri prodotti tipici a partire dalla Falanghina che è la prima bottiglia prodotta in purezza qui a Sant'Agata dei Goti nel 1979. Quindi vi aspetto, venite a visitarci, a scoprire le cavità sotterranee dove potete assaggiare sia i prodotti tipici del territorio sia entrare in contatto con la storia, la cultura, le tradizioni di questo posto fantastico. Salve, sono Serena Silvio, benvenuti nel nostro agriturismo La Piccola Fattoria al sito. Il nostro è un agriturismo a condizione familiare. Ci troviamo in località Piana del Mondo, una contrada di Sant'Agata dei Goti immersa nel verde. Oggi ospiteremo gli amici di Campania Ferias, a cui faremo di gustare alcuni piatti tipici del territorio della nostra tradizione sannita. Contrade, borghi, chiese, palazzi storici. Antiche tradizioni, cucina d'eccellenza e prodotti di un sapore unico. Questa è Santa Catica dei Goti nel Sannio, in provincia di Benevento. I pacchetti Campania Ferias sono prodotti di qualità che vengono venduti solo tramite agenzie di viaggio. Noi apparteniamo alla filiera professionale del turismo organizzato e i nostri pacchetti sono disponibili in tutte le agenzie di viaggio d'Italia. Grazie. Grazie a tutti.